Mercoledì 12, alla conferenza stampa convocata per spiegare le ragioni della protesta e delle prossime azioni di mobilitazione, i sindacati del comparto scuola Cigelle, Cislewil, Snals e Gilda hanno parlato della rottura dei rapporti con il Ministero senza risparmiare nulla alla Ministra Lucia Azzolina. Il nodo principale resta quello dei concorsi, in quanto il Ministero ha accolto ben poche delle richieste sindacali e insiste per prove selettive, mentre i sindacati chiedono che si tenga conto del fatto che gran parte dei precari in attesa del ruolo sono docenti che lavorano da anni, magari anche con incarichi organizzativi e didattici di una certa importanza. Molte le accuse fatte anche con toni decisamente forti. Il segretario nazionale della Will Scuola, Pino Turi, ha parlato addirittura di bullismo ministeriale. La Azzolina fa la forte con i deboli. Ci ha sbattuto la porta in faccia e non è questo il modo di affrontare il confronto con le parti sociali. La segretaria della Cisle Scuola, Maddalena Gissi, ha detto che da parte della Ministra non c'è alcuna volontà di governare con una politica partecipativa. Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda, ha parlato di una virulenza nei confronti dei sindacati da parte della Ministra mai vista prima. Francesco Sinopoli, segretario della FLC CGL, ha aggiunto che oltre allo sciopero del 17 marzo di cui si è parlato finora, non si esclude un'altra giornata di astensione dal lavoro già in questa stagione. Per la verità, nella mattinata del 13 febbraio lo sciopero del 17 non risulta ancora ufficialmente proclamato, ma d'altronde già nel corso dell'incontro si è parlato di un possibile anticipo della data, perché i bandi sono in questi giorni già all'esame del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. In ogni caso, sottolineano i cinque sindacati, lo sciopero sarà della scuola intera per i precari e tutti potranno aderire. E così, nell'attesa che i cinque sindacati principali decidano il da farsi, il sindacato di base Unicobas ha depositato presso la Commissione di Garanzia la comunicazione per la proclamazione di uno sciopero per il 17 marzo. Tra le richieste del sindacato di Stefano Del Rico, aumenti stipendiali significativi, 250 euro mensili di aumento medio, reclutamento mediante il modello del doppio canale, il 50% dei posti disponibili assegnati ai precari abilitati, il 50% ai vincitori di concorsi ordinari e cancellazione di ogni progetto di regionalizzazione della scuola. Venerdì 14, per intanto, ci sarà una prima prova tecnica, con uno sciopero indetto da alcune sigle del sindacalismo di base, tra cui CUB, SGB e USI. Ovviamente su questo tema noi continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale, seguiteci anche sul portale della nostra testata www.tecnicadellascuola.it, soprattutto scriveteci, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, le vostre riflessioni, ne daremo conto come sempre.